Ciao, se il tuo climatizzatore e condizionatore non funziona più, puoi provare semplicemente a cambiare il telecomando acquistando questo qui dalla Meliconi universale. Ti lascio il link in descrizione per acquistarlo su Amazon. Ok, per configurarlo devi lasciare il condizionatore in stand-by, ossia in corrente ma con l'aletta chiusa, quindi spento in effetti, però pronto ad essere acceso. In questo caso c'è una luce rossa sul display. Poi, teniamo premuto il tasto set per circa 8 secondi, usciranno ecco qui delle lineette tratteggiate, continua a tenere il dito peggiato sul tasto set, indica il condizionatore, così l'infrarosso potrà prendere il segnale e attendi fin quando non esce un bip, il che vuol dire che il telecomando ha trovato ed acquisito il codice del tuo condizionatore. Appena senti il bip rilascia il pulsante, ecco qui, lasciando il pulsante il telecomando si è memorizzato, infatti se vai a provare tutte le funzioni sono già configurate e ogni volta che lo spegni e lo riaccendi rimarrà nella configurazione attuale. Ventilatore, riscaldamento, automatico e aria fredda quindi per la nostra estate.